Ferruzza deve stare dietro, eh? Campiano stringe Ferruzza, Sant'Andrea davanti, Campiano in seconda, Ferruzza, Torre e Massarella, Sant'Andrea alla curva della mossa, con Campiano che viene su, è sempre Sant'Andrea, l'attacco di Campiano che ci prova, ci prova Campiano, sempre Sant'Andrea davanti, Torre, ci prova Campiano, è sempre Sant'Andrea davanti, Sant'Andrea che spinge fortissimo, Panzai, Antonio Siri con Silvopo per Campiano, ci prova, ci prova ancora forte Antonio Siri, ma rimane avanti Panzai e Sant'Andrea, all'ultima curva della mossa, Sant'Andrea, Panzai, Gavino Sanna, riporta nel palio in su, un palio bellissimo, un palio straordinario che Gavino Sanna stasera abbia scritto un'altra pagina straordinaria della sua storia e di quella di Sant'Andrea e con un cavallo esordiente, con una classe incredibile, il palio se lo porta a casa, Mano e Spalli, il capitano di Sant'Andrea, se lo porta a casa, ad uscio a Torino, il suo governatore, se lo riporta in Sant'Andrea, per la terza volta Gavino Sanna, re indiscusso della buca del palio di Fucecchio.